Se l'equipaggio che lo chiede, indossare il giubbato di salvataggio tirando sopra la testa, mettendo la cinghia in fondo alla vetta e facendo scatare davanti, stringere la cinghia. Per fare il giubbato di salvataggio tirando la maniglia rossa solo quando si lascia l'aereo. Utilizzare il tubo rosso fa regolare la pressione senza necessario. Una luce sulla vostra spada si illumina automaticamente l'acqua. In fine ricordiamo che siete obligati a seguire in ogni momento, signale, l'umiduzia le distraccione dell'equipaggio, signore, signore. Mi ringraziamo per la cortezza, attenzione, perché oriamo una viaciabile permanenza a bordo. Lastly, we're showing you how to use of the lapis. There's a lapis under its seats, please only move it up and under the water to cool. Then pull the vest over your head, put the strap around your waist, and fasten it in front. Pull the strap tight. Only when leaving the aircraft, inflate your lapis by pulling the red handle. If necessary, use the red to adjust the pressure. A signal lamp on the shoulder lights up automatically on contact with water. Finally, we point out the driver lights to comply with luminous indications in the cabin and instructions of the crew at all times. Ladies and gentlemen, we thank you for your attention and I wish your blessings to onboard. We'll be back to you. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.